Le scene che vedrete in questo video costituiscono un progetto ideato completamente da Michele Mirenna, dove situazioni reali e momenti di finzione andranno a caratterizzare una web series che vedrà per la prima volta come protagonista il mondo, quello vero. Buona visione. Negli episodi precedenti. A seguito di questo incarico, assegnatomi dal mio signore in persona, io, umile guerriero del regno sovrano, accetto di mettermi in viaggio per il pianeta Terra e portare questa testimonianza alla persona che il mio signore ha chiesto soltanto a me di ritrovare, una delle persone più buone e sincere in tutto il pianeta Terra, che costituisce ancora quella parte di mondo che possiede entità umane non ancora ammalate e che non fanno parte di quelle menti perdute. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Devi trovare il luogo dove, secondo il manoscritto, si dovrebbe trovare con molte probabilità la persona che stiamo cercando. D'accordo, mio signore, dalla posizione in cui mi trovo non dovrebbe essere tanto distante. Bene, mi raccomando però, fai attenzione. Lo farò, mio signore. Vado. 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 persona che stiamo cercando non c'è più tempo no non posso ne devi andare ci ritornerai ma adesso scappa ok ma che succede mio signore i poteri sono annullati scappa figliolo ma dovrai correre proprio come fanno gli esseri umani in questa terra come gli umani qualcosa mi dice che non sarà tanto semplice ok sto arrivando grazie